Ciao bimbi, benvenuto a un nuovo esperimento creativo. Oggi creeremo una pioggia di colori. Ci serviranno colorante, cucchiaino, bicchiere, olio per il corpo o anche di semi, vasetto e acqua. Incominciamo a prendere il bicchiere e a riempirlo d'olio. Adesso prendiamo il colorante e mettiamo alcune gocce. Adesso con un cucchiaino mescoliamo. Dopodiché lo mettiamo da parte. Prendiamo il vasetto, lo apriamo, lo riempiamo d'acqua, almeno tre quarti e adesso ci aggiungiamo l'olio che abbiamo fatto. Esperimento riuscito!